La provincia di Brindisi sostiene e promuove percorsi di accoglienza e solidarietà per coltivare tra i giovani una vera e autentica inclusione sociale, culturale e scolastica. Per questo motivo la provincia d'intesa in collaborazione con la società cooperativa sociale e socioculturale nell'ambito dei servizi di integrazione scolastica di Sabili ripropone per il secondo anno il progetto affido culturale per ragazzi speciali dai 14 ai 20 anni residenti in uno dei 20 comuni del territorio provinciale. L'affido culturale è un'esperienza significativa di socializzazione, amicizia e arricchimento. La partecipazione al progetto è gratuita e consiste nella possibilità di andare insieme o in piccoli gruppi al cinema, a teatro, museo oppure in biblioteca o altri luoghi di cultura e divertimento amati da ragazzi. Sono previsti circa 5 ingressi gratuiti per ognuno di loro nell'anno 2023 oltre alla partecipazione a corsi e laboratori, visite ai musei e parchi. L'accompagnatore sarà abbinato a un ragazzo speciale a seguito di un breve percorso di formazione. Il progetto si terrà nei mesi di marzo, a partire dall'ultima decade, aprile e maggio. Sarà data priorità agli utenti già in carico ai servizi provinciali di inclusione scolastica. La novità in questa seconda edizione è l'opportunità per i ragazzi che vogliono sperimentare il ruolo di accompagnatori di avere il riconoscimento delle proprie scuole e l'inserimento in PCTO o in progetti di alternanza scuola-lavoro. A tal fine è indispensabile la collaborazione delle scuole. Per questo motivo è stata indetta una conferenza dei servizi con gli istituti scolastici del territorio.